bella c'è anche questa se vogliamo ma non so com'è messa e questa va a fare fino al sentiero su c'è anche questa Pietro però non so com'è messa c'è questa era già impegnativa ai tempi e dove vai? fermati non riesci a passare lì dopo c'è l'altro sentiero ma qua mi ha chiusato sono arrivato troppo lento troppo piano arriva anche il terzo a posto goda 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 nooo qua deve arrivare forte eh no lì c'è l'altro sentierello no e che lì c'è l'altro sentiero ma non so dove è stato troppo lento giù tutto come indietro no no si non riesci da qua qua deve arrivare già su lanciato e andare via veloce c'è lì sto cacchio di legno devi dar giù te aspetta 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 vada no scendo o povero me aiuto non sono riuscito a scastrarmi qua sono andato giusto solo che quella non me l'aspettavo sono andato o o o o o o o o o